L'assidua attività di controllo del territorio svolta dalle fiamme gialle nel corso di questo fine anno per prevenire e vigilare sul commercio la detenzione illecita di artifici pirotecnici nonché per reprimere fenomeni illegali nei settori dell'abusivismo commerciale e dei diritti d'autore, ha consentito di sequestrare una notevole quantità di film ed album musicali piratati destinati al commercio. In particolare le indagini svolte dagli uomini della Compagnia della Guardia di Finanza di Gela sono sfociate nella perquisizione di un esercizio commerciale successivamente dell'abitazione del titolare il quale aveva posto in essere una centrale di riproduzione illecita di materiale coperto dal diritto d'autore. L'operazione si è conclusa con il sequestro di sei hard disk e due personal computer tra 141 DVD illecitamente di prodotti e privi del prescritto contro assegno SIAE e detenuti per la vendita e la denuncia del responsabile per l'azione dell'articolo 171 terra comma 1 lettera D e comma 2 lettera A della legge 633 del 22 aprile del 1941 e successive integrazioni e modificazioni ovvero riproduzione e detenzione per la vendita di prodotti audiovisivi illecitamente duplicati. La Compagnia di Caltanissetta invece diretta dal Capitano Francesco Riemma nel corso di un servizio diretto a reprimere i reati contro la fede pubblica presso il locale mercato settimanale a posto sotto sequestro penale nei confronti di un cittadino extracomunitario 700 DVD illecitamente di prodotti e privi del contrassegno SIAE nonché detenuti per la vendita. Le fiamme gialle intanto continuano la loro attività di tutela economica e finanziaria del territorio.